Come si decide la Corte Costituzionale? Sono due fatti diversi con elementi di contatto rispetto al Presidente De Luca, ma sono due vicende diverse, sono diversi ricorsi, sono diversi motivi, sono diverse le storie, quindi c'è tanta diversità. Io sono molto tranquillo perché penso che la battaglia giuridica che stiamo facendo è una battaglia giusta e che riusciremo nei prossimi passaggi istituzionali a vedere riconosciute le mie ragioni, sia da un punto di vista di Corte Costituzionale e sia il giorno dopo nel processo penale che è quello che francamente mi sta ovviamente più a cuore perché ho subito una gravissima ingiustizia con quella decisione di primo grado e attendo con la decisione della Corte d'Appello che per me è molto importante, più importante ancora della Corte Costituzionale chiaramente. Hai chiesto la prescrizione? No, 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 i miei avvocati chiedono la soluzione perché il fatto non sussiste, è in subordine ovviamente per non aver commesso il fatto.